Adesso, sei qui! Sì, non so, due orecchie si sta aggirando. E che significa che abbiamo un'istante? E' distretto, guarda, è distretto a mangiare! A me non piacciono per niente, stiamo a 5! Allora, come sarà il tuo posto di lavoro? La scuola di Venezia! A me non dimenticare, ma vedi! E' un po' lofano! Allora, parte il piscito è della due strada. E' stato il proprio bar, invece, togliete dalla destra. A me non lo sento a una persona. E' un po' così procedo. E' un po' così procedo. Guarda! E' un po' di deciditi. E' un po' di deciditi. E' un po' di deciditi. Grazie a tutti.